buongiorno carissimi amici e carissime amiche nel video precedente abbiamo parlato di heidegger perlomeno abbiamo analizzato il brano di una sua celebre opera appunto essere e tempo e abbiamo parlato del sostanzialmente del primo heidegger ovvero sia dell'heidegger comunemente definito come esistenzialista ora ci immergiamo invece nel secondo heidegger nell'heidegger cioè che parla di estetica che parla di arte che però puntualizza anche alcuni aspetti che aveva già trattato prima in riferimento all'esistenzialismo e quindi è un heidegger che in un qualche modo se non corregge se stesso se non si autocorregge certamente però rivede determinate tematiche allora vediamo adesso in riferimento appunto ciò che diciamo il capitolo che potremmo intitolare come intitolano giustamente i nostri autori di riferimento ovvero a bagnano fornero con la consulenza anche la collaborazione di gianfranco burghi ovvero dalla lettera sull'umanismo e in modo particolare ci riferiamo all'opera di heidegger lettera sull'umanismo per l'appunto traduzioni italiane in segna via ad delfi milano 1987 pagine 281 284 faremo la lettura poi ci fermeremo ad un certo punto grosso modo un poco oltre alla metà leggeremo il commento degli autori che ho prima menzionato a bagnano e fornero e burghi dopodiché riprenderemo la lettura e poi procederemo con un nuovo commento ecco quindi metodologicamente sarà un po questa la nostra modalità per procedere e poi ogni tanto intervallerò magari ancora anch'io con un commento però molto leggero sulla tematica interessata leggiamo dalla lettera sull'umanismo l'importanza della lettera sull'umanismo di heidegger ci dicono appunto i due autori riguarda un duplice piano a un primo livello viene sancita la posizione centrale del problema dell'essere da ciò consegue sia la critica mossa dal filosofo alla metafisica incapace di misurarsi effettivamente con l'essere e concentrata solo sull'ente sia la rivisitazione da parte di heidegger dell'esistenza umana non più considerata come l'interlocutore privilegiato dell'essere come invece appunto era in essere e tempo ma come destinataria di un compito affidato dell'essere stesso ovvero custodire la sua verità facendola affiorare in seno al linguaggio a un secondo livello si pongono alcune precisazioni su essere tempo precisazione cui heidegger giunge attraverso la polemica con sartre altro grande filosofo esistenzialista e che se da una parte fanno emergere l'originario progetto di una filosofia dell'essere dall'altra offrono una spiegazione dell'incompiutezza di essere e tempo quindi una sorta di rivisitazione che heidegger fa della sua opera primigegna sulla scorta anche di una sorta di confronto e addirittura di polemica intellettuale vera e propria con l'altro grande filosofo sartre vediamo adesso il commento che viene fatto all'inizio prima di addentrarci nella lettura stessa che è il seguente l'uomo e il suo stare dentro nella verità dell'essere la lettera sull'umanismo si apre configurando il pensiero come svolgimento della relazione dell'essere all'essenza dell'uomo in contraposizione all'interpretazione tecnica incarnata dalla filosofia tradizionale o metafisica che si distingue per la dimenticanza dell'essere per la rottura dell'unità di teorie prassi e per il suo permanere entro le diatribe filosofiche il diverso modo di concepire il pensiero porta con sé una diversa concezione dell'esistenza che heidegger considera ora come lo stare dentro nella verità dell'essere e entriamo davvero nel vivo dell'argomentazione con le vive parole di heidegger esperire in modo sufficiente partecipare a questo pensiero diverso che abbandona la soggettività è reso peraltro più difficile dal fatto che con la pubblicazione di sein on site la terza sezione della prima parte zeit on design non fu pubblicata qui il tutto si capovolge la sezione in questione non fu pubblicata perché il pensiero non riusciva a dire in modo adeguato questa svolta e non ne veniva a capo con l'aiuto del linguaggio della metafisica e questa svolta non è un cambiamento del punto di vista di sein on site ma in esce il pensiero che la veniva tentato raggiunge per la prima volta il luogo della dimensione a partire dalla quale era stata fatta l'esperienza di sein on site come esperienza fondamentale dell'oblio dell'essere sartre invece esprime così il principio fondamentale dell'esistenzialismo l'esistenza precede l'essenza qui egli assume esistenza ed essenzia nel significato della metafisica la quale da platone in poi dice l'essenza precede l'esistenza sartre rovescia questa tesi ma il rovesciamento di una tesi metafisica rimane una tesi metafisica come tale anche questa tesi si resta con la metafisica nell'oblio della verità dell'essere la tesi capitale di sartre circa il primato dell'esistenza sull'essenza giustifica il termine esistenzialismo come una denominazione adeguata a questa filosofia ma la tesi capitale dell'esistenzialismo non ha nulla in comune con la frase di sein on site e ciò a prescindere dal fatto che in sein on site non è ancora possibile non c'era una tesi sul rapporto tra essenzia ed esistenza perché in quella sede si tratta di approntare qualcosa di provvisorio e precursorio il che secondo quanto se detto viene in modo assai maldestro ciò che ancora oggi per la prima volta resta da dire potrebbe forse costituire una spinta per condurre l'essenza dell'uomo pensare con attenzione alla dimensione della verità dell'essere che la governa ma ciò potrebbe accadere di volta in volta solo per la dignità dell'essere e a beneficio dell'esserci che l'uomo sopporta e esistendo e non a causa dell'uomo affinché con la sua attività si affermino la civiltà e la cultura ma per giungere nella dimensione della verità dell'essere in modo da poterla pensare noi uomini d'oggi siamo tenuti a chiarire anzitutto come l'essere riguarda l'uomo e come lo reclama e qui ci fermiamo un attimo ma unicamente per leggere il commento che fanno appunto abbagnano e fornero giunti a questo punto il quindi iniziando dall'analisi del testo filosofico il la loro argomentazione è questa il pensiero si congeda dalla soggettività per fare spazio alla relazione dell'essere con l'essenza umana heidegger attribuisce le difficoltà relative alla determinazione di un tale pensiero non solo i suoi caratteri intrinseci ma anche la mancanza di una riflessione precedente orientata in tal senso che pure rientrava nei piani dell'opera del 1927 essere tempo rimasta però incompiuta nella sezione mancante l'analisi del tempo avrebbe dovuto lasciarci alle spalle l'esserci e fornire lo sfondo al problema dell'essere operando così un rovesciamento dall'esserci all'essere ma l'operazione osserva heidegger non era possibile all'interno di un linguaggio di tipo metafisico poiché la metafisica è incapace di risarire all'essere in generale in quanto si limita la considerazione dell'essere solo in quanto proprio dell'esistente da questa affermazione sembra emergere che nonostante fosse consapevole dei limiti della metafisica heidegger non fosse tuttavia ancora in grado di comunicare il senso dell'essere come tale senza ricorrere alla terminologia metafisica il volgersi all'essere da parte di heidegger non si traduce dunque in una sconfessione di essere tempo ma in un inveramento del pensiero l'ha espresso ecco apparire il nome di sartre sul cui pensiero heidegger si pronuncia in senso negativo siamo nei versetti dal 9 al 13 dove parla appunto di sartre è noto infatti che l'importanza della lettera non è legata solo alla precisazione dei termini della svolta heideggeriana ma anche alla sua presa di distanza da sartre e dal suo esistenzialismo la filosofia di sartre va infatti assimilata alla metafisica a dispetto dell'inversione da lui operata nel rapporto di priorità tra essenze di esistenza entrambi infatti hanno reciso il collegamento con l'essere per quanto riguarda i versetti da 14 a 25 la frase di essere tempo la quale heidegger allude in queste righe è la seguente l'essenza dell'esserci risiede nella sua esistenza dove il ci la particella pronominale indica l'apertura dell'essere e dove l'esistenza si configura come esistenza nel senso dello stare in tale apertura a prescindere dalla corrispondenza o meno di questa interpretazione con il senso che la frase assumeva realmente in essere tempo è comunque degno di nota al fatto che heidegger in forza della priorità dell'essere e del suo senso dell'esistere prenda le distanze dalla filosofia dell'esistenza di sartre confinandola nell'orizzonte metafisico in cui perfetto dell'oblio dell'essere ancora si disquisisce intorno al rapporto tra essenza ed esistenza restano così precisati sempre in polemica con sartre da un lato la necessità di ripensare l'essenza umana a partire dalla verità dell'essere e dall'altro lato il riconoscimento del fondamento di tale necessità nell'essere e nella sua originaria apertura all'esistenza e non all'esistenza umana in quanto tale nel suo significato più pregnante più precipico procediamo nella lettura adesso di heidegger e poi vediamo il commento questi versetti successivi che sono dal 26 fino al 50 tale esperienza essenziale ci accade nel momento in cui capiamo che l'uomo è in quanto esiste se vogliamo dirlo nel linguaggio tradizionale diremo l'esistenza dell'uomo è la sua sostanza per questo in zain un zait torna di frequente l'affermazione la sostanza dell'uomo è l'esistenza solo che la parola sostanza pensata dal punto di vista della storia dell'essere è già la traduzione occultante di usia in greco appunto c'è di essere una parola che nomina la presenza di ciò che è presente e per una enigmatica ambiguità il più delle volte vuol dire nello stesso tempo ciò che è presente se pensiamo alla denominazione metafisica di sostanza in questo senso che già si annuncia in zain un zait conformemente alla distruzione fenomenologica che la è compiuta allora la proposizione la sostanza dell'uomo è l'esistenza non dice altro che questo il modo in cui l'uomo nella sua essenza propria presente all'essere è l'estatico stare dentro nella verità dell'essere certo la maestà essenziale dell'uomo non risiede nell'essere la sostanza dell'ente in quanto suo soggetto nel far dissolvere in quanto despota dell'essere l'essere ente dell'ente nella troppo sonoramente celebrata oggettività l'uomo è piuttosto gettato dall'essere stesso nella verità dell'essere in modo che così esistendo custodisca la verità dell'essere affinché nella luce dell'essere l'ente appaia come quell'ente che è se è come esso appaia se è come dio e gli dèi la storia e la natura entrano nella radura dell'essere si presentino e si assentino non è l'uomo deciderlo l'avvento dell'ente riposa nel destino dell'essere all'uomo resta il problema di trovare la destinazione conveniente alla sua essenza che corrisponde a questo destino perché conformemente a questo destino egli in quanto esistente ha da custodire la verità dell'essere l'uomo è il pastore dell'essere questo soltanto è ciò che zain un zait si propone di pensare laddove esperisce l'esistenza statica come cura ma l'essere che cos'è l'essere esso è se stesso questo è quanto il pensiero futuro deve imparare a esperire ea dire e vediamo il commento che ci fanno abbagnano fornero al rilievo della dimensione ontologica nel pensiero di heidegger consegue la determinazione dell'esistenza come ex esistenza vale a dire come l'ex statico stare dentro nella verità dell'essere come heidegger dirà poco oltre e l'abbiamo letto appunto in cui si risolve l'essenza dell'uomo l'esistenza non è più semplicemente il modo di essere dell'uomo ma il suo stare con il proprio essere nell'essere rendendosi partecipe del destino dell'essere la ragione del confronto tra esistenza ed essenza finalizzato a stabilire la priorità dell'una sull'altra viene dunque meno poiché entrambe sono volte a una realtà più alta sono incluse cioè senza distinzioni nella fruizione della verità dell'essere secondo il volere di quest'ultimo per rendere conto del rapporto tra l'ex esistenza e l'uomo heidegger si serve qui del linguaggio della metafisica al quale appartiene appunto il termine sostanza se si tiene conto di quanto il filosofo appena dichiarato in merito al limite linguistico che gli ha impedito in essere tempo di dare corpo alla svolta ontologica l'utilizzo del termine sostanza in tale opera non stupisce ora però heidegger rileva l'ambiguità di questo vocabolo che esprimendo contemporaneamente la presenza e ciò che è presente induce all'oblio dell'essere orientando un esclusivo interesse per l'essente ciò che è presente il termine sostanza come in generale l'ontologia deve essere dunque sottoposto a distruzione fenomenologica affinché ne emerga il significato autentico ovvero l'essere presente all'essere l'essenza dell'uomo come sostanza consiste come si è visto nell'essere presente ma non all'essente bensì all'essere prospettare l'essenza umana in termini di semplici di semplice testimonianza dell'essente significa per heidegger entrare nella strettoia del rapporto soggetto oggetto l'azione dell'uomo in quanto soggetto si traduce nel oggettivare la realtà in nome dell'essere azione della quale l'uomo si sente investito è qui condensata la concezione heideggeriana dell'uomo che heidegger può finalmente esprimere dopo essersi spinto oltre il limite della metafisica essa viene a configurarsi secondo tre connotati precisi la sua apertura voluta dall'essere stesso nei confronti dell'essere che spiega la possibilità di fruire della sua verità il suo compito di custodire tale verità la sua conseguente funzione di misurare l'essente sul modello di tale verità in modo da comprenderlo correttamente qui mi fermo e terminiamo però questo video questo commento nel video prossimo seguente grazie arrivederci